Quando diciamo a qualcuno che vogliamo cambiare la nostra vita, ci viene spesso detto di pensare in grande, di fare cambiamenti drastici e di cambiare completamente ciò che siamo. E se invece ti dicessi che è tutto falso, che è effettivamente possibile ottenere dei grandissimi risultati attraverso delle piccole modifiche nella nostra quotidianità. Un difetto dell'essere umano in generale è che tutti sopravvalutiamo l'importanza delle grandi azioni drastiche e sottovalutiamo l'importanza delle piccole azioni che messe insieme durante un lungo lasso temporale portano dei grandissimi cambiamenti. Il vero cambiamento infatti avviene tramite l'effetto composto di centinaia se non migliaia di piccole azioni messe insieme che durante il tempo portano dei grandissimi cambiamenti. Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale nel primo episodio della serie in cui vi parlo dei libri che mi hanno cambiato la vita. Oggi parliamo di Atomic Habits di James Clear, che ci insegna e spiega qual è il processo da seguire per creare delle nuove buone abitudini e distruggere quelle vecchie cattive abitudini. Se non mi conosci piacere, io sono Matteo Frasinani e nella vita parlo di soldi, finanze e crescita personale sul web. Se anche tu come me sei interessato a questi argomenti allora ti chiedo cortesemente di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per farmi vedere che apprezzi i miei contenuti e per non perderti ogni nuovo video. Ti chiedo un ultimo favore prima di riprendere col video, cioè di lasciare anche un bel like a questo video per aiutare il mio canale con l'algoritmo da YouTube così da raggiungere il mio obiettivo dei 100.000 iscritti entro la fine dell'anno, che però, come vedrai in questo video, è un obiettivo inutile. Tramite esempi dal mondo dello sport, business ed istruzione e con le varie prove di studi scientifici, il libro ci spiega qual è la scienza delle abitudini e di come piccoli cambiamenti positivi che sembrerebbero di per sé insignificanti, possano portare a grandissimi e notevoli risultati con il potenziale di cambiarci la vita. Le argomenti principali del libro sono 4 e li vedremo in questo video uno ad uno. Inizialmente parleremo del potere dei piccoli cambiamenti nel tempo, per poi andare nel secondo punto a scoprire perché dobbiamo abbandonare completamente gli obiettivi e concentrarci sul costruire dei sistemi. Nel terzo punto invece vedremo perché è sbagliato pensare ai risultati e perché invece dobbiamo pensare alla nostra identità. E finalmente, nello step finale, vedremo quelle che James chiama le quattro leggi per cambiare il nostro comportamento. Bene, allora, perché i piccoli cambiamenti sono importanti? Il segreto sta nel potere dell'effetto interesse composto. L'effetto composto può infatti essere estremamente potente sia in senso positivo che in senso negativo. Per esempio, se noi migliorassimo dell'1% ogni giorno per un anno, finiremo l'anno che siamo diventati 37 volte meglio rispetto all'inizio. Allo stesso modo però, se peggiorassimo dell'1% ogni giorno per un anno, alla fine dell'anno saremo quasi a zero. Quindi è molto importante capire ed internalizzare questo concetto perché proprio come dice James, le abitudini sono l'effetto composto del miglioramento. Intendendo che le piccole buone abitudini non sembrano avere un grande effetto di per sé, ma se noi andassimo a zoomare in fuori e a vedere il grande schema per una grande durata di tempo, allora lì ci accorgeremo che queste piccole abitudini sono proprio quelle che ci hanno cambiato e migliorato la vita. E spesso noi tendiamo a trascurare queste abitudini perché non vediamo, non ci rendiamo conto dell'impatto positivo che hanno nel tempo. E purtroppo è così per tutti, viviamo in una società dove tutto ciò che facciamo ci porta gratificazione istantanea, ci porta del benessere senza fare sacrifici, senza fare sforzi. Quindi è normale che poi andiamo a perdere di vista quelle che sono le buone abitudini che magari ci fanno soffrire sul momento ma ci portano dei grandi benefici a lungo termine. È anche da tenere in conto però che quanto sì le piccole buone abitudini sono fantastiche, anche le piccole cattive abitudini sono estremamente distruttive. Il segreto sta nel tempo, infatti il tempo accorcia la distanza tra il successo e il fallimento, sia in senso positivo che in senso negativo. Qualsiasi cosa tu gli dia che sia una buona abitudine o una cattiva abitudine, il tempo la moltiplica esponenzialmente. Quindi dai al tuo tempo tante piccole buone abitudini e le vedrai moltiplicarsi in una maniera incredibile. La parte difficile è ovviamente rimanere costanti con queste piccole abitudini perché è difficile se non impossibile all'inizio vederne i risultati positivi. Ed è infatti importante sapere che quella è un'abitudine positiva e bisogna anche essere consapevoli del fatto che con il tempo noi poi andremo a vedere questi benefici. E questo ci farà poi sorpassare quel periodo iniziale dove non vediamo risultati se non addirittura vediamo peggioramenti, fa continuare ad andare per poi iniziare a goderne dei benefici. Bene, il secondo punto del libro è abbandona gli obiettivi, concentrati sui sistemi. Nel libro vengono individuati principalmente quattro problemi sul porsi gli obiettivi. Punto uno, i vincitori e i perdenti hanno tutti lo stesso obiettivo. Tutti gli atleti vogliono vincere il campionato, tutti i candidati hanno un lavoro, vogliono il posto di lavoro, tutti gli olimpionici vogliono una medaglia d'oro. Quindi ovviamente se tutti hanno lo stesso obiettivo, qualcuno ci arriva e qualcun altro no, vuol dire che l'obiettivo non conta. O meglio, l'obiettivo in sé non è ciò che differenzia i vincitori dai perdenti. Punto due, raggiungere un obiettivo è una cosa momentanea. Sì, è molto facile trovare la motivazione per pulire la propria stanza, ma se io non vado poi a lavorare sui sistemi che mi hanno portato ad avere una stanza sporca, allora prima o poi mi ritroverò sicuramente di nuovo nel disordine. Allo stesso modo quando noi raggiungiamo un obiettivo. Non lo abbiamo raggiunto perché ci siamo posti l'obiettivo in sé e basta. Lo abbiamo raggiunto perché siamo andati sotto a cambiare sistemi, procedimenti nella nostra vita che poi ci hanno portato a raggiungere quell'obiettivo. Punto tre, gli obiettivi limitano la nostra felicità. Tutti diciamo noi stessi, quando raggiungerò X obiettivo poi sarò felice. Quindi andiamo poi a finire a rimandare sempre la felicità al prossimo traguardo. Punto quattro, il motivo per cui ci poniamo degli obiettivi è per vincere il gioco. Il motivo per cui costruiamo dei sistemi è per continuare a giocarci. Pensa di essere un calciatore ed un atleta qualsiasi. In ogni sport l'obiettivo è avere il punteggio migliore rispetto all'avversario alla fine della partita. Ti rendi conto anche tu che però sarebbe ridicolo passare l'intera partita con gli occhi puntati sul tabellone a guardare il punteggio. Quindi se tu ti concentrassi solo ed esclusivamente a dare il massimo, a fare il meglio che puoi, allora vedrai che il punteggio si prenderà cura di se stesso. Ok, ora che abbiamo visto qual è l'importanza del creato dei sistemi andiamo invece a vedere il terzo punto del libro, cioè l'importanza della nostra identità. Quando noi vogliamo raggiungere un obiettivo istintivamente lavoriamo dal fuori al dentro. Cioè abbiamo l'obiettivo e da lì poi andiamo a lavorare per modificare la nostra identità. Chi siamo, cosa facciamo, in cosa crediamo. E questo risulta raramente efficace. Ciò che James ci consiglia di fare è partire dall'identità e andare a lavorare in fuori. Per citarlo, la forma più grande di motivazione è quando un'abitudine entra a far parte della nostra identità. Quando risolviamo i problemi partendo dal problema in sé, li risolviamo solo temporaneamente. Per andare a risolvere un problema a lungo termine dobbiamo andare a cambiare la nostra identità. È lo stesso discorso che abbiamo fatto prima sul pulire la tua stanza. Se tu non aggiusti quei processi che ti hanno portato a sporcare la tua stanza, tu la puoi pulire ma poi ti ritroverai di nuovo con la stanza sporca. Lo stesso discorso si fa con la nostra identità. Per esempio, se tu ti poni l'obiettivo di leggere di più come fanno un sacco di persone all'inizio dell'anno, di solito cosa fai? Parti dall'obiettivo, qual è? Voglio leggere di più. Quindi, leggerò un libro a settimana, diventerò una persona curiosa. Ma ciò che io ti consiglio di fare, o meglio che James ci consiglia di fare, è di partire prima dall'identità per poi arrivare al risultato. Io sono una persona curiosa, quindi essendo una persona curiosa leggo tanti libri ed un giorno magari diventerò un intellettuale. È molto importante partire dall'identità. Capire questo concetto ci cambierà completamente la vita. Lo stesso discorso si può applicare a tutto, non solo ai libri, si può applicare allo sport, al lavoro, a qualsiasi cosa. Ed eccoci finalmente arrivati al quarto punto del libro. Sono sicuro che ormai stai convinto e credi anche tu nel potere delle piccole abitudini messe insieme. Ok, è tutto fantastico, ma come si costruiscono le buone abitudini? Grazie per avermelo chiesto e ti dirò di più. Si può effettivamente individuare e dividere il processo per creare una nuova abitudine in quattro step. Indizio, voglia, risposta e premio. L'indizio consiglia al cervello di iniziare una nuova azione. La voglia offre la motivazione di compiere quell'azione. La risposta è l'azione in sé che noi andiamo a fare. Ed il premio è l'obiettivo finale. E questi sono i quattro step che portano James a creare nel libro le quattro leggi per cambiare il nostro comportamento. La prima legge è rendilo ovvio. E si riferisce proprio a modificare ciò che ci circonda per andare a modificare i nostri indizi. Per esempio, se tu devi prendere ogni mattina una determinata medicina e continui a scordartela, prova a mettere la scatoletta della medicina vicino alla macchina del caffè. Così facendo, non solo ti ricorderai di prendere perché le vedi ogni mattina quando ti vai a fare il caffè, ma avrai anche modificato l'ambiente in tal modo da ridurre l'attrito e quindi avrai reso anche l'azione di prendere la medicina più facile e senza nemmeno volerlo andare a creare una nuova abitudine. E pensa quanto possano essere grandi risultati nel vivere in un ambiente che è completamente a seconda a quelli che sono i tuoi obiettivi. È come se tu avessi una forza esterna che gentilmente ti spinge verso il raggiungimento di essi. La seconda legge è rendilo attraente. E questo si lega all'aspetto della voglia nel nostro loop delle abitudini. Essendo noi esseri umani, siamo altamente motivati dall'anticipazione dell'azione e non dall'azione stessa. Io, prima di mangiare una barretta di cioccolato, solo a pensarci, anticipo l'azione che io la sto mangiando e mi sento già meglio. Questo ovviamente mi rende poi più motivato, più invogliato di mangiare una barretta di cioccolato. Ciò che dobbiamo fare è prendere questo stesso procedimento e andarlo ad applicare alle buone abitudini. Per esempio, se non abbiamo voglia di studiare per un esame, quello che possiamo fare è darci come premio per aver studiato mezz'ora di videogiochi, un episodio di una serie tv che ci piace, un video su youtube o qualsiasi cosa. Così l'anticipazione del premio che andremo a ricevere ci darà più voglia per studiare. La terza legge è rendilo facile. E l'obiettivo è proprio come abbiamo visto nel punto 2, quello di creare un ambiente che ci assecondi nella creazione di una buona abitudine. Qualsiasi cosa che noi possiamo fare per ridurre l'attrito tra una buona abitudine e noi, la dobbiamo fare. Per esempio, se io volessi iniziare ad andare a correre, una cosa che posso fare è prendere le mie scarpe da corsa la sera e metterle vicino al letto. Così, quando mi sveglio la mattina, la prima cosa che vedo sono quelle scarpe. Non solo mi ricorda il mio obiettivo di andare a correre, ma me lo rende ancora più semplice perché non devo nemmeno scendere dal letto per mettermi le scarpe. E la quarta legge è rendilo soddisfacente. Il nostro cervello purtroppo si è voluto ed ha imparato a dare priorità ai premi immediati. Se ci pensi, troverai una grande verità in questa frase. Ciò che viene premiato immediatamente viene ripetuto. Ciò che viene punito viene evitato. I social sono un grandissimo esempio. Quando siamo annoiati ci basta aprire Instagram, scrollare un pochino e proviamo del piacere istantaneo che riempie e elimina la nostra noia. Questo ovviamente ci porterà ogni volta che siamo annoiati di accendere il telefono e scrollare come abitudine. A proposito, seguimi su Instagram se non lo fai già. Ciò che James ci consiglia di fare è di aggiungere un qualcosa che renda una buona abitudine immediatamente gratificante. Bene ragazzi, stiamo arrivando ora alle conclusioni del video. Ciò che io personalmente ho apprezzato di più del libro Tommy Cabitz è proprio l'importanza che James dà alle piccole abitudini, a quelle cose che spesso vengono tralasciate, ma che in realtà hanno un potere enorme sulla nostra vita. Ciò che vorrei che le persone avessero capito con questo video è che se anche una piccola abitudine può sombrare una sciocchezza, unita a tante altre piccole abitudini e ovviamente al tempo, possono portare degli enormi cambiamenti. Questo ragazzi è quanto. Grazie di avermi seguito fino alla fine. Vi ricordo della presenza del bottone iscriviti qua sotto. Fammi sapere con un commento se vuoi che continui questa serie sui libri che mi hanno cambiato la vita e se hai trovato questo video utile. Io ti ringrazio di essere stato con me e ci vediamo al prossimo video.